Il Paradiso delle Signore, mercoledì 15 maggio 2019 Seguendo le tracce del pneumatico sulla strada, Umberto e Vittorio riescono a rintracciare la macchina di Spinelli. Scendono anche loro nel burrone ed estraggono Marta dalla vettura per portarla immediatamente in ospedale. Clelia viene informata da Luciano che il suo piano è quasi concluso e che l'indomani Bacchini sarà incastrato. Marta vuole lasciare l'ospedale, nonostante i medici le consigliano ancora assoluto riposo. Ma lei vuole tornare a casa per affrontare il padre e capire se quello che le ha detto Luca corrisponda a verità. Spinelli ha infatti confidato alla donna che Umberto ha sottratto i beni ai Fonseca. Un gesto bruttissimo sul quale la giovane Guarnieri vuole vederci chiaro. Tina effettua la sua prima esibizione in radio con il brano scritto per lei da Sandro, ma alla fine interviene Nora che rovina la festa a tutti. La donna infatti mette in pubblica piazza la storia tra Tina e Sandro, mettendo la donna in cattiva luce agli occhi degli ascoltatori. Marta e Vittorio sono finalmente soli e possono parlare di quanto è accaduto nelle ultime ore. Grazie per la visione! Grazie per la visione!